All'entrata del paese di Ascona, accanto alla Manor, si trova il nostro centro vendita. Qui trovate piante per tutti i gusti, a foglia caduca, conifere, sempreverdi, arbusti, perenni, piante acquatiche e fiori annuali. Come pure vasi di diverse forme e fatture, con cimi e prodotti fitosanitari. Oltre al centro vendita, offriamo consulenza a domicilio per la manutenzione, ristrutturazione o la costruzione a nuovo del vostro giardino o terrazza. Ci potete contattare telefonicamente allo 091-791-2888 o mandandoci una e-mail oppure farci visita presso i nostri uffici annessi al centro vendita. Vi aspettiamo da Schober ad Ascona. Grazie a tutti.